Sono quasi tutte donne tra i 45 e i 65 anni, 20 anni di precariato ma soprattutto di lotta, i lavoratori e le lavoratrici ex LSU nel 2020 vedranno finalmente riconosciuto il loro diritto alla stabilità lavorativa e riconosciute le giuste garanzie che spettano a chi da decenni tiene in piedi le strutture scolastiche assieme al personale ATA. Circa 12.000 impiegati in tutta Italia di cui 560 circa in Abruzzo in maggioranza nella provincia di Teramo che conta al 2017 oltre 300 assunti. Un momento storico perché? Un momento storico perché dopo 20 anni i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia delle scuole ex LSU e a parti storici finalmente vedono riconosciuto questa anzianità di servizio. Finalmente dopo 20 anni di precariato nell'ultima legge di stabilità grazie alla capabilità dei lavoratori e dell'organizzazione sindacale che rappresento siamo riusciti a stabilizzare questi lavoratori attraverso l'internalizzazione dei servizi. Ora c'è bisogno dell'ultimo passo ed è per questo che abbiamo deciso di convocare questo momento con la stampa per far sì che tutti i lavoratori impiegati in questi servizi vengano appunto internalizzati. C'è una volontà politica messa nero su bianco nell'ultima legge di stabilità, ora ci sarà da definire i meccanismi tecnici per far sì che tutta la popolazione dei lavoratori impiegati in questi servizi possa a tutti gli effetti entrare a far parte del personale ATA e vedersi riconosciuto un ruolo che svolgono da 20 anni, ovvero quello di lavorare per un servizio pubblico, quello di pulizia delle scuole e quindi di vedersi riconosciuto un contratto pubblico, quello del personale ATA. In Abruzzo quanti lavoratori saranno stabilizzati? Parliamo di all'incirca 500 lavoratori, solo nella provincia di Taramo sono all'incirca 300, purtroppo i numeri non sono precisi perché sono tutti impiegati con cooperative o ditte che hanno preso a parti o subapparti, quindi è difficile anche capire qual è il loro datore di lavoro, ma parliamo di questi numeri. 500 in tutto Abruzzo, 300 a Taramo, questo processo di internalizzazione significerebbe per la prima volta porre fine alle sofferenze di lavoratori che purtroppo sono invecchiati all'interno del precariato. Con la stabilizzazione miglioreranno anche le condizioni economiche e il salario passerà da 850 euro a 1100 euro mensili. Grazie!